La pesca spinning in mare è fatta di lanci, di recuperi, di albe, di tramonti, di sonno perso, di chilometri percorsi, di sacrificio e di tante delusioni, ma si continua a lanciare. La pesca spinning in mare è fatta di ricerca, di sperimentazione e di attesa. L'attesa di quella magica emozione che può arrivare da un momento all'altro e poi arriva una grande cattura, allora tutto ha un senso, tutta la fatica si dimentica, tutto il sudore, i soldi spesi e il tempo non sono stati sprecati e continui ancora a lanciare. La pesca spinning è fatta di esche, di canne, di amicizia, di passione, di paesaggi, di natura e di interpretazione. Con Planet Spin speriamo di trasmettere queste emozioni e condividiamo le nostre esperienze, mentre continuiamo a lanciare. Raccontiamo la nostra passione anche quando non peschiamo niente e torniamo a casa convinti che la prossima volta andrà meglio. Ancora più sognatori, ancora a lanciare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.